Due segretarie, mentre erano sul posto di lavoro, cominciano a parlare e si confidano. Allora la prima donna dice all'altra, scusa Angela, dimmi, dimmi, io volevo parlarti di una cosa, dimmi, di che cosa volevi parlarti? Sai, girano certe voci qua in ufficio, che tipo di voci? Girano certe voci e dicono che tu praticamente sei stata a letto col capo, ma è vero? Risponde l'altra donna. E... diciamo di sì, come diciamo di sì? Diciamo di sì, lui mi aveva promesso che mi doveva regalare un visone. Ah sì, e te l'ha regalato poi? E purtroppo sì, come purtroppo sì? E perché ogni mattina devo andare a pulire sempre la gabbietta. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.